e ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video eccoci qui con il secondo episodio del road 2 serie A team è passato tanto tempo dal primo episodio solo che mi è arrivato il computer adesso solo che ci sono un po' di problemi e quindi questo video lo registro mentre non ho ancora un computer nuovo e quindi uscirà un po' tardi quando vedrete questo video molto probabilmente avrò già il computer e quindi allora in questo periodo ho comprato un bel po' di giocatori ho comprato come vedete Kisina mi pare e poi molti altri giocatori trovati nei pacchetti e un po' comprati come Rudiger e soprattutto Antonino Candreva guardate qui ragazzi comprato per 16.000 l'ho voluto comprare soprattutto perché è italiano e almeno qualche italiano in questa squadra ci vuole dato che comunque qualcuno ci vuole insieme a Soriano e là davanti questa volta giocheremo invece con Icardi ho già fatto una partita adesso per riscaldamento e l'ho vinta doppietta di Icardi doppietta di bacca sono in forma speriamo di vincere anche questa sono salito in divisione 9 come vi ho detto non registrerò tutte le partite ma giocherò da solo per poi andarmi a comprare dei giocatori forti e poi andare comunque avanti con la road to serie A team comunque la nostra serie A ce l'abbiamo d'ora in poi cercheremo sempre di migliorarla magari con IF magari con altri top player e niente ragazzi questa è la squadra Alex Tellius, Rudiger e così via credo che avrete già visto il pack opening se non l'avete ancora visto uscirà comunque ho fatto un pack opening quindi tutti i soldi che ho guadagnato da lì ho comprato questi giocatori più o meno e poi 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 ora inizierò a fare anche le stagioni la road to division 1 in coop con il Coon che aprirà il canale o se non l'ha già aperto appunto io questo video lo sto registrando prima una settimana prima più o meno che uscirà andrò al games week il sabato quindi vedrò se registrare qualcosina e se far uscire anche il video andiamo a farci la nostra partita ragazzi eccolo qui andiamo a vedere la sua squadra 79 di valutazione più o meno come la nostra però non ha intesa la sua non è assolutamente male beh direi che ha qualche problemino questo forse non sa giocare a FIFA ma due cdc come difensori centrali e di fin lì nulla però esterno destro Vidal in prestito anche Snyder e ehm ehm Santi Casorla quindi direi una squadra molto all'offensiva cerchiamo di fargli un po' di gol comunque se sa giocare questa squadra è forte andiamo al match eccoci qui ragazzi spero di divertirvi spero di divertirmi soprattutto e che vinca il migliore bella Guarin dentro per Alex Telles vai che parte sulla fascia dentro per Maurito Icardi la mette in mezzo c'è bacca c'è bacca madonna che miracolo che ha fatto che miracolo che ha fatto ma no ma chi ha in porta ma Radona guardate che miracolo incredibile angolo per noi attenzione Guarin migliore secondo me acquisto fino adesso uh Kishina cerca di rimetterla in mezzo e rovesciata ancora bacca mi pare se chi si è perso il video della volta scorsa se lo vado a vedere con lui rovesciata di bacca ma no Dio santo sbilanciatissimi qui sbilanciatissimi c'è Candreva in difesa e grande Candreva grande Candreva vai 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 si sta facendo tutta la fascia da solo Candreva guardalo non si ferma più in mezzo c'è Maurito Icardi Maurito Icardi si si che gol guardate Candreva cosa ha fatto è partito dalla difesa cazzo dalla difesa e poi Icardi incorna benissimo facca nio santo vai vai Kisna vai ma no ma che tiro è ma che tiro è Kisna ma sveglia un po' dai ma cos'è una mozzarella vai vai Soriano vai eeeh uè arbitro vai Candreva vai vai ma dove cozzo tiri centrale che chiusura no ma come fallo no arbitro ma ma come fallo no dai dai ma che gol è dai ma che gol è dai ma si può ma dai ma l'aveva chiuso benissimo l'aveva chiuso qui dormono guarda le da solo da solo Ostis ma cosa fa ma cosa fa è deficiente ma vai vai dentro bella per i cardi vai Cardigno maurito ci voleva lui ci voleva bomber chi dovigna bacca chi dovigna chi dovigna bacca 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 che cosa ha fatto che cosa ha fatto carlos bacca carlos bacca carlos bacca madonna non ho la webcam se no te lo spuntavo tutto la prossima volta webcam ragazzi in questa serie metterò la webcam mamma mia ragazzi mamma mia faccio le esultanze come fanno loro dopo grande carlos bacca 3 a 1 3 a 1 è loco è loco è loco dentro per bacca bacca c'è bacca c'è bacca c'è la botta di bacca la botta di carlos bacca ma che gol che gol ma chi siamo chi siamo sto schizzando cazzo chi siamo ma che gol ha fatto ma che gol ha fatto altro che quelli che fanno il passaggino in mezzo ehi ma perché io sono fatte questo qui magari meglio se questo pezzo lo taglio sono fuso sono fuso ostis sono fuso e vabbè e vabbè ragazzi e vabbè basso e niente bel gol ma vabbè ho fatto uscire il portiere per vedere cosa riuscivo a fare se riuscivo a parargliela comunque 4 a 2 credo sia finita qui ragazzi finita qui bella partita bella partita mi sono piaciuti spero che anche a voi sia piaciuta questa partita adesso andremo a vedere comunque c'ho il bonus quindi buono dato che mi è andata così bene oggi andremo ad aprire anche un pacchetto sputtanando per bene tutti gli 8000 9000 crediti che ho abbiamo fatto due partite ne abbiamo vinte tutte e due una l'ho fatta prima come vi ho già detto quindi andiamo ad aprire il nostro bellissimo pacchetto buttando via tutti i crediti ecco lì 9192 crediti ragazzi attenzione perché c'è la doppia probabilità di trovare i top layer cioè ma avete capito bene peccato che da 0 probabilità di trovare un giocatore se si aumentano per 2 quindi il doppio fa sempre 0 perché 2 per 0 quanto fa? 0 però noi ci proviamo comunque sarà più difficile sarà più facile che il Carpi vinca il campionato però ovviamente noi ci proviamo con Alaba oh oh Gervinio Gervinio che ci potrebbe anche servire grande Gervinio grande Erif una settimana fa ma fa nulla saluto spero che questo video comunque vi sia piaciuto fatemi sapere qui sotto nei commenti ci vediamo ad un prossimo video su questo canale passatela al canale dal Kun che dovrebbe aprire a breve se non ha ancora già aperto se non ha ancora aperto e se non ha già aperto comunque e niente farò una serie con lui che dirvi raga vi saluto ciao a tutti ciao